Allora, anche per rispetto a chi non è di questi territori e chi non conosce proprio bene la storia locale, come anche consuetudine nostra, inserirò il percorso della storia della comunità di Asti, come uno studio di caso, nel contesto più ampio del percorso fatto dal regime fascista. Condividiamo qua. Allora, vi chiedo scusa della qualità delle foto che saranno nella presentazione, ma è evoluto, nel senso che sono documenti che sono stati raccolti nel corso degli anni da un lungo lavoro di censimento nei vari archivi, in particolare nell'archivio centrale dello Stato di Roma, dove una volta riuscivamo a andare tutti gli anni e fare incetta di documentazione riguardante queste zone. Poi gli accessi sono diventati sempre più difficili e quindi abbiamo un po' dilatato le nostre visite. Archivi di Stato, sia di Asti che di Alessandria, archivi locali, archivi privati, e quindi il risultato di questo lavoro pluriannale poi è diventato anche una ricerca che poi è confluita in vari progetti di ricerca anche a livello nazionale. Vedremo poi le responsabilità, i meccanismi delle deportazioni e anche la differenza con la deportazione politica. Cominciamo subito nel dire che io ho solo messo proprio velocissimamente delle immagini per darvi l'idea di come la presenza ebraica in Piemonte sia una presenza plurisecolare molto molto antica. Pensate che ad Asti il primo documento che attesta la presenza di un ebreo sul territorio del nono secolo, quindi ben prima dell'anno 1000. Quindi una presenza che aumenta sempre di più di numero soprattutto dopo il quattordicesimo secolo quando c'è la cacciata, dopo la cacciata degli ebrei dalla Francia e soprattutto dopo il 1492, dopo la cacciata degli ebrei dai territori spagnoli. arrivano nel basso Piemonte numerosi ebrei, numerose famiglie che si attestano in varie località soprattutto del basso Piemonte e condividono una cultura, una ritualità ma anche un dialetto cosiddetto giudaico-piemontese che unisce questa fascia territoriale che riguarda le province di Cuneo, Alessandria e Asti. Io ho messo proprio solo delle brevissime suggestioni sui luoghi ebraici non ci sono tutti in questa zona, sono di una bellezza e di una ricchezza artistica veramente straordinarie, sono località spesso molto poco conosciute e sono luoghi nella maggior parte dell'anno, nel periodo dell'anno, chiusi alle visite. Per chi è in Piemonte consiglio davvero di approfittare in tempi non-covid ovviamente dell'apertura di questi gioielli durante la giornata europea della cultura ebraica che generalmente è a settembre. Qui siamo a Cherasco in provincia di Cuneo, qui siamo a Carmagnola, Torino qui siamo a Saluzzo sempre in provincia di Cuneo era per darvi l'idea di una presenza molto importante che si concretizza anche in siti cimiteriali in provincia di Asti ce ne sono tre uno è a Nizza Monferrato, l'altro a Moncalvo e ad Asti il cimitero ebraico è tuttora attivo quindi ci sono ancora, permangono ancora delle sepolture e in alcuni casi abbiamo poi delle vere e proprie mescolanze di stili e di architetture notevoli. Torino, quello che è diventato il simbolo della città doveva essere la sinagoga ebraica è visitabile vicino alla stazione di Porta Nuova questa è la sinagoga maggiore, il tempio più grande questo è il tempio più piccolino insomma, questa è la sinagoga di Asti con l'interno questo è l'antico ghetto di Asti perfettamente in centro, collocato in centro della città dove a segnare quell'antica storia rimangono il susseguirsi di queste botteghe, di queste vetrine che testimoniano la presenza di laboratori artigianali di luoghi di vendita di prodotti degli orti che venivano coltivati all'interno dei cortili di queste case rimane a testimonianza del ghetto delle regole del ghetto la sopraelevazione di questa casa che è una delle case più interne del ghetto tra l'altro è la casa natale di Giovanni Pastrone il pioniere del cinema italiano il regista di Cabiria questa trave che vedete il segno che testimonia l'antico tetto della casa siccome le zone indicate come ghetti dovevano essere quelle avevano dei confini ben precisi l'accoglienza di nuove famiglie la formazione di nuove famiglie non poteva prevedere l'ampiamento dei territori riservati agli ghetti quindi si sopraelevavano le case con alcune strutture anche molto precarie come in questo caso sono strutture in legno che formano in questo caso il quarto-quinto piano qui siamo a Nizza Monferrato che è un paese in provincia sempre di Asti il piccolo piccolo cimitero ebraico che tuttora è all'interno del cimitero municipale di Nizza qui è il retro dell'antica sinagoga di cui si sono perse assolutamente le tracce e qui ho voluto mettere proprio solo una suggestione di famiglie la quotidianità delle famiglie erano famiglie molto integrate è un discorso che riguarda tutto il nord Italia in particolare il Piemonte in particolare il basso Piemonte molto integrate nel resto della comunità anche nel periodo del ghetto con l'emancipazione quindi con la libertà con l'inizio della vita fuori dai ghetti dopo il 1848 quindi dopo l'emanazione dello Statuto Albertino molte di queste famiglie continuano a vivere nell'antico ghetto ebraico astigiano e molte altre invece si trasferiscono fuori soprattutto nelle grandi città Torino, Genova, Firenze, Roma e quindi la comunità antica antichissima comunità astigiana che ha raggiunto diciamo il suo apice massimo intorno ai 500 persone 500 individui nella prima metà dell'Ottocento poi con l'unità d'Italia questo numero scende sempre di più proprio a causa dei trasferimenti soprattutto di queste famiglie che arrivavano non solo dalla Francia e dalla Spagna ma erano originari anche dalla Germania come per esempio gli Ottolenghi ho messo solo fotografie di inizio secolo qui siamo negli anni 30 e la curiosità è questa bimba che non rispetta la posa di tutta la famiglia in foto è Maria De Benedetti che avete sentito di cui avete sentito parlare di cui avete sentito la voce la testimonianza raccolta a Mauro Stroppiana la volta scorsa qua vicino è invece il suo fratello Paolo che ci ha lasciato qualche tempo fa le foto di questi fondi fotografici testimoniano l'assoluta normalità come deve essere come è di una quotidianità assolutamente normale riprendo quello che dice Adriana Muncinelli che ha ricostruito la storia degli ebrei nel cuneese paradossalmente saranno poi le leggi proprio il percorso del fascismo il percorso antiebraico del fascismo le leggi razziste del fascismo a creare il gruppo ebrei e questi sono ebrei che non si sentono ebrei sono molto laici la stessa Erika Iona dice certo che eravamo assimilati rispettavamo il tempio rispettavamo le principali festività ebraiche ma io il sabato ho sempre lavorato eravamo perfettamente integrati ed erano gli ebrei piemontesi particolarmente legati ovviamente alla famiglia Savoia che aveva dato loro le libertà aveva riconosciuto loro la vita fuori dal ghetto avevano partecipato alle lotte risorgimentali avevano partecipato a tutto il processo di unificazione del paese dell'Italia avevano partecipato alla grande guerra e avevano anche raccolto spesso decorazioni, medaglie e onorificenze ecco attualmente gli ebrei italiani sono raccolti in 21 comunità questi sono i dati più recenti che do scusa mi sembra di 3-4 anni fa nel paese sono meno di 30.000 le comunità più grandi sono a Roma e a Milano gli altri invece sono sparsi in comunità medie o addirittura molto piccole l'unione delle comunità ebraiche italiane è l'unificazione delle varie comunità italiane e l'UCEI ha proprio il compito di rappresentare le istanze ma anche il coordinamento delle esigenze culturali rituali, politiche delle comunità e ha il compito appunto di rappresentare queste con il governo italiano e le altre istituzioni pubbliche questa invece è sostanzialmente la situazione del numero di ebrei residenti in Italia nei censimenti 11 e 31 e poi nel censimento particolare del 1938 che vedremo con queste caratteristiche essenziali un tasso di natalità molto più basso della media italiana che già era sostanzialmente abbastanza basso rispetto alle medie europee di quel periodo della prima metà del novecento ma un tasso di alfabetizzazione ovviamente di conseguenza quindi delle posizioni professionali superiori al resto della popolazione italiana allora io comincio questo percorso utilizzando lo citerò spesso Michele Sarfatti che è stato per moltissimi anni il direttore del CEDEC il centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano ed è attualmente lo storico più importante quello che ha prodotto più ricerche e lavorato maggiormente sui documenti proprio per ricostruire la storia degli ebrei nell'Italia fascista e lui identifica tre momenti tre periodi della persecuzione di questo percorso che il fascismo compie della persecuzione anti-ebraica il primo è un periodo della persecuzione della parità dell'ebraismo vedremo che cosa succede è da dire che ricostruire il percorso in questo modo restituisce un carattere prettamente italiano al percorso anti-ebraico e si riesce a capire anche meglio perché a un certo punto nel 1988 vengono emanate leggi razziste uso ormai il termine non razziali ma razziste o ancora meglio anti-ebraiche si restituisce quindi autonomia a questo percorso e si risponde in maniera direi proprio ormai definitiva la storiografia ormai è attestata sul sul riconoscimento di una autonomia assoluta del percorso fascista nella persecuzione ebraica rispetto all'alleato tedesco il secondo periodo è il periodo della persecuzione dei diritti degli ebrei che va dal 36 al 43 e poi la vera e propria persecuzione delle vite negli ultimi due anni di guerra allora prendiamo il primo il primo periodo il periodo della persecuzione della parità dell'ebraismo Michele Sarfatti ricostruisce questi piccoli passi piccoli e estremamente significativi passi che cominciano a isolare comunque mettere in una posizione di minoranza reale concreta le comunità ebraiche Mussolini nel suo discorso di insediamento del 16 novembre del 22 nel suo lungo discorso dice tutte le fedi religiose saranno rispettate con particolare riguardo a quella dominante che è il cattolicismo poi altri piccoli segnali come il per esempio le circolari del 22 e del del 1922 e del 1923 che ricollocano nelle aule della scuola delle scuole il crocifisso nelle aule scolastiche oppure la riforma il discorso di Giovanni Gentile o la riforma poi Gentile del del 23 quando lui dice l'insegnamento della religione cattolica deve diventare il principale fondamento del sistema dell'educazione di tutta la restaurazione morale dello spirito italiano ma saranno poi i patti lateranensi cioè questi accordi di mutuo riconoscimento a creare preoccupazione a creare una sorta di campanello d'allarme soprattutto negli esponenti più lungimiranti delle comunità delle comunità ebraiche perché si capisce che c'è un rapporto concordatario quindi su piani di parità tra Stato e Chiesa e Chiesa cattolica le altre religioni vengono in un certo senso ammesse al regno come dice come dice la legge ma in un certo senso tollerate ecco la preoccupazione di questi anni viene anche ulteriormente accentuata da alcuni isolati episodi che però se vengono messi insieme a questi segnali costituiscono ad altri a questi che vi sto citando molto velocemente provvedimenti azioni eccetera costituiscono dei segnali preoccupanti nel 1926 c'è la devastazione della sinagoga di Padova la violenza nel 23 ancora nella seconda metà di agosto la violenza squadrista sugli ebrei di Tripoli ma poi c'è il discorso dell'ascensione del 1927 che è il discorso che accento e mette evidenzia il tema della del popolo italiano della salute del popolo italiano della salute fisica del popolo italiano e della razza italiana vado velocemente ecco la legge del numero 1159 del 29 stesso anno dei 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 patti lateranesi dice sono ammessi nel regno nello stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica romana purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume e poi l'altro passaggio importante è un regio decreto conosciuto come legge falco che riguarda esplicitamente le comunità israelitiche cosa fa sottopone all'autorità dello stato tutte le attività delle comunità israelitiche la legge falco paradossalmente però viene presa come una positivamente da alcuni esponenti delle comunità ebraiche perché dicono è un riconoscimento di tipo giuridico dell'esistenza quindi di una minoranza religiosa è il riconoscimento di tipo giuridico delle comunità che diventano enti di diritto pubblico e quindi è una sorta di legge tranquillizzante alcuni invece all'interno proprio delle comunità probabilmente più lungimiranti o comunque più attenti a questi segnali invece ne sottolineano com'è effettivamente la fascistizzazione dell'organizzazione delle comunità israelitiche che al loro interno su cui regolamento lo stato interviene e le gerarchizza e accento i poteri quindi delle direzioni delle comunità e diminuisce come ho scritto nella slide la rappresentatività nei consigli e soprattutto inasprisce la sorveglianza la rende più stretta rende più stretta la sorveglianza dello stato sulle comunità e l'obbligo soprattutto di iscrizione ai registri nei registri delle delle comunità quindi l'essere iscritto in un registro della comunità è un'ingerenza dello stato all'interno della storia ebraica della storia delle comunità perché pone un limite al processo di secolarizzazione di laicizzazione che in realtà le comunità ebraiche italiane soprattutto quelle del nord come dicevo prima vivono da da moltissimo tempo quindi questa legge comincia a sottolineare una specificità ebraica inoltre nel 1932 due anni dopo la cosa un altro passaggio estremamente significativo è il trasferimento delle competenze da in materia di culto dal ministero di giustizia e di culto come era prima al ministero degli interni e quindi dando facoltà al ministero degli interni di ulteriore controllo su tutti gli ambiti religiosi di spazi sicuramente differenti rapporti con ricci differenti ok questa stessa legge Falco riduce accorpa le comunità ebraiche italiane le riduce a 25 la comunità ebraica di Asti passerà sotto la comunità ebraica di di Alessandria qui metto la citazione al discorso dell'ascensione di cui facevo riferimento prima con queste questi questo brano riprodotto testualmente la razza italiana nel suo espressione fisica nel suo periodo di splendore eccetera è un discorso estremamente significativo che poi riprenderemo riprenderemo successivamente sempre in quegli anni avvengono altri due episodi anzi ne aggiungerei un terzo che comincia già nella metà degli anni venti cioè una diffusione editoriale intensa dei protocolli dei sali di Sion di cui abbiamo già parlato nelle volte scorse cioè di questo libello antisemita che viene stampato in più edizioni diffuso venduto e che comincia a diffondersi tra il 1924 e il 1925 in Italia nel 34 abbiamo l'arresto alla frontiera di antifascisti torinesi e per la prima volta sui giornali di propaganda una associazione di nomi ebraici all'antifascismo peraltro molto presente e molto vivo soprattutto nella capitale nel capoluogo torinese e quindi comincia a farsi strada nella propaganda l'associazione tra disordine tra antifascismo e ebraismo ripercorrendo peraltro riprendendo peraltro anche stereotipi e luoghi comuni emersi in particolare in Europa a metà ottocento e nel 36 il divieto da parte del ministero dell'istruzione di pubblicare le edizioni specifiche per le scuole ebraiche che erano normalmente uscivano negli anni precedenti privati dei passi della dottrina cattolica ecco questi sono i fatti che possono sembrarci singoli possono sembrarci isolati ma che in realtà costituiscono un inizio un inizio neanche tanto in sordina ma un inizio preciso di un percorso che sta andando verso il periodo della persecuzione dei diritti è costante la tematica del problema demografico e dell'aumento del numero degli italiani la potenza è nel numero è lo slogan del fascismo questi sono i giornali locali la provincia di Asti è l'organo del partito fascista astigiano che sono delle fonti molto interessanti perché rappresentano la propaganda quindi la posizione del partito fascista un monito agli italiani il popolo italiano e l'associazione con la razza italiana accanto a quella rivendicazione l'abbiamo già visto nelle scorse incontri la pagina del Corriere della Sera in cui si vede un titolo carattere cubitale in cui il fascismo rivendica il razzismo come elemento genetico proprio della propria ideologia e della propria cultura il razzismo fascista data 1919 la proclamazione dell'impero e qui non mi soffermo e le prime leggi le emanazioni delle prime regi razziste segnano questo passaggio ad una politica razzista vera e propria quindi si comincia a creare un linguaggio e si diffonde un linguaggio che abbiamo visto a radici molto antiche che affonda le proprie radici nei secoli precedenti contro il meticciato quindi contro la mescolanza di razze per la distinzione delle varie razze per la gerarchizzazione di queste razze fino alla separazione vera e propria tra una razza e l'altra in contemporanea la pubblicazione del libro fascista di Paolo Urano contro gli ebrei dal titolo gli ebrei in Italia nel 1938 entrano quello che si può chiamare l'anno nero per gli ebrei in Europa perché entrano in vigore leggi anti-ebraiche in moltissimi paesi d'Europa sono entrate in vigore nel 1935 quelle di Norimberga in Germania che l'abbiamo detto l'altra volta è la sommatoria è una diciamo una ristrutturazione un dare corpo e dare più armonia giuridica a tutta una serie di norme circolari che erano entrate in vigore già a partire dall'aprile del 1933 quindi immediatamente dopo la nomina cancelliere di Hitler nel 1938 vengono emanate le leggi antirazziste in Polonia in Ungheria in Bulgaria in Austria con l'annessione alla Germania prende le leggi di Norimberga e che vengono applicate sul territorio austriaco ma e in Italia cosa succede? In Italia tra gli ultimi mesi del 1937 e le prime settimane del 1938 ci sono delle operazioni amministrative e queste si possono vedere proprio dai documenti dell'archivio centrale dello Stato di Roma che sono operazioni di preparazione e come se fosse una sorta di palestra di addestramento della burocrazia italiana delle pubbliche amministrazioni ad occuparsi del problema ebraico ci sono i primi censimenti degli ebrei negli uffici pubblici all'interno del ministero degli interni si comincia poi si procede con l'esercito e poi con le pubbliche amministrazioni dipendenti dallo Stato però sparse sul vario territorio sul territorio nazionale 15 luglio mentre si procede a questa schedatura tutta interna alla burocrazia all'amministrazione fascista 15 luglio viene pubblicato quello che erroneamente viene chiamato il manifesto degli scienziati razzisti è un documento il fascismo e i problemi della razza è il suo titolo è un vero e proprio decalogo sono dieci concetti espressi viene denominato manifesto del razzismo italiano sul sia su giornali dell'epoca che sul primo numero della difesa della razza che esce nell'agosto del 1938 questa altra fonte molto importante molto interessante per ricostruire anche il percorso del razzismo fascista e questo manifesto è frutto risultato del dell'idee di Mussolini chiede semplicemente a Guido Landre e ad altri dieci intellettuali di sottoscriverlo ma in realtà perché ha bisogno di un supporto di tipo culturale scientifico alle proprie idee della razza ma nasce proprio all'interno nell'ambito ristrettissimo dell'idea del duce e ho citato Michele Sarfatti di nuovo il suo ultimissimo libro Il cielo sereno ha otto stereotipi perché tra questi otto stereotipi uno dei capitoli è proprio dedicato al manifesto cosiddetto manifesto della razza lui intanto lo definisce come un unicum nel panorama europeo non esiste da nessuna nessun'altra realtà un documento del genere è un documento politico ed è un documento che già a partire dagli anni 50 e 60 nelle ricostruzioni della storia dell'ebraismo dell'antisemitismo italiano viene definito erroneamente manifesto degli scienziati fascisti razzisti come se e questo secondo Sarfatti ha contribuito a de-responsabilizzare nella scrittura de-responsabilizzare Mussolini nella scrittura di questo documento e in più io ve lo riassumo molto il libretto il libro citato è un libretto molto molto sottile molto di facile lettura e poi se trovate online il fatto che sia stato firmato da 300 intellettuali del fascismo no quella è una delle tante fake news in cui si è incappati nel corso di questi anni e quindi assolutamente no questo ve la segnalo come un errore storiografico enorme e quindi occorre sottolineare che la responsabilità di questo documento è tutta esclusivamente del Duce il 17 luglio l'ufficio centrale demografico diventa cambia nome diventa direzione generale per la demografia e la razza e dipende dal ministero degli interni dell'interno questo anche è una cosa da tenere ben presente e poi viene istituito l'ufficio studi problemi della razza che dipende dal ministero della cultura perché ha il compito di realizzare tutta quella serie di progetti di formazione ed educazione in ambito raziale il 17 agosto una volta fatto il censimento degli ebrei dipendenti della pubblica amministrazione vi ricordate all'inizio del 1938 vengono definitivamente allontanati quindi licenziati gli ebrei dipendenti dal ministero dell'interno siamo mesi prima rispetto all'emanazione delle leggi razziali ma si è messo in moto un meccanismo per quello che io sottolineavo la volta scorsa che occorre andare sulle circolari sulle leggi e sui provvedimenti amministrativi perché è veramente da lì la chiave per capire meglio questo percorso di persecuzione il censimento degli ebrei 22 agosto 1938 io vi ho messo la circolare che arriva della regia prefettura di Asti che arriva a tutti i podestà dei comuni della provincia è sempre sottolineata come col carattere riservatissima e urgente e questo è la spiegazione dei delle procedure che bisogna attuare per realizzare il censimento degli ebrei occorre dare risposta negativa anche laddove ebrei non ce ne sono per chi poi fosse interessato per di fare nel fare un percorso didattico con i ragazzi sui documenti ovviamente noi siamo a disposizione per darvi una i documenti risoluzione migliore di questa di cui vi accennavo anche all'inizio contemporaneamente escono gli articoli sui giornali qui siamo sul giornale di Asti i giudei nell'astigiano chi sono questi giudei e quindi l'utilizzo del termine dispregiativo quanti sono i risultati del censimento astigiano un pezzo dell'articolo che vi ho fatto vedere prima dice anche ad Asti c'è la conferma che gli ebrei proletari scarseggiano siamo in pieni stereotipi antisemiti ci sono dei ricchi e dei ricchissimi ma si sono arricchiti in città o altrove con mezzi e predilezioni giudaiche il commercio la banca l'assicurazione non è possibile quando si vuole risolvere un problema ad operare i mezzi termini e in questo caso la chirurgia quindi l'operazione di eliminazione chirurgica di questo male giudaico si impone un altro articolo molto interessante è appare sulla prima pagina della provincia di Asti dal titolo razzismo italiano razzismo tedesco e a me pare che in questo brano che ho selezionato scusatemi che ho selezionato sia assolutamente evidente il percorso del fascismo dell'antisemitismo fascista c'è una rivendicazione della supremazia del razzismo italiano rispetto a quello tedesco considerando poi la questione ebraica se il problema rimase ed è una risposta a tante domande che abbiamo fatto noi molte volte ma perché gli ebrei ma perché poi nel 38 ma perché poi così tardi cioè 16 anni dopo l'ascesa al potere di Mussolini se il problema rimase per alcuni anni allo stato latente fu perché altri problemi urgevano e dovevano essere risolti ed è così d'altronde noi stiamo parlando di numeri irrisori all'interno del regime fascista gli ebrei abitanti sul territorio italiano si aggirano tra i 45 46 47 mila quindi un numero molto molto modesto non è un'urgenza ci si preoccupa degli ebrei alla fine di un percorso quando abbiamo parlato di altro quando abbiamo fatto interventi legislativi ben più urgenti e riguardanti tematiche come la demografia come lo sviluppo del numero degli italiani eccetera eccetera le schede del censimento del 38 quindi le schede nominative degli ebrei che vengono censiti attenzione non è un censimento come siamo abituati a pensarlo noi individuale ma viene fatto sulle famiglie e viene fatto per cognome infatti i primi dati del censimento hanno numeri decisamente più alti rispetto alla realtà perché molti cognomi sono sì di origine ebraica ma poi in realtà gli individui non sono di razza ebraica continuano i documenti continuano gli scambi le richieste di chiarimenti e le risposte tra uffici periferici e uffici centrali dello Stato e prefetture io qui vi ho messo semplicemente un foglio in cui ho coperto i nomi per ragioni di privacy nominativi di ebrei domiciliati nella città di Asti iscritti nel registro della congregazione israelitica della popolazione ebraica abbiamo tutto nome e cognome genitorialità data di nascita luogo di nascita professione e residenza residenza con numero civico questi elenchi rimangono aggiornati continuativamente fino al 1943 ed è ovvio che con questi elenchi al momento degli arresti a disposizione nel momento degli arresti è assolutamente facilissimo andare casa per casa ad arrestare le persone settembre 1938 la pianizzazione della scuola italiana e quindi l'espulsione degli ebrei stranieri dall'Italia sono due regi decreti decreti leggi emanate a settembre quello che riguarda l'espulsione degli ebrei dalla scuola quindi insegnanti allievi precede di due mesi e mezzo se non tre i provvedimenti di espulsione dalle scuole emanate dal nazismo quindi dalle scuole tedesche e sono molto interessanti i titoli provvedimenti per la difesa della razza nella scuola italiana provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri sempre inerenti alla protezione della razza italiana io qui ho messo tre link uno è l'archivio di Stato di Torino che fa un bel percorso presentato un bel percorso tra la scuola e le leggi razziali con molti documenti tra cui anche la dichiarazione del gran consiglio del fascismo che parla di razza parla di razza ebraica sottolinea ancora una volta la necessità di risolvere il problema ebraico vi ho messo poi anche un link all'archivio di Stato di Asti dove c'è un piccolo catalogo di una mostra che abbiamo fatto insieme Archivio di Stato e Israt ormai la scorsa giornata della memoria 2020 e che è scaricabile assolutamente in pdf sono documenti che potete utilizzare tranquillamente e potete scaricare e usare a scuola vi riproducono testualmente i decreti legge le documentazioni uscite tra soprattutto tra l'agosto e il novembre 1938 arriviamo ai regi decleti del 17 novembre provvedimenti per la difesa della razza italiana sarebbero tutti da leggere sono da leggere nelle scuole superiori per con i ragazzi soprattutto quando si fa diritto sono a differenza della legislazione della legislazione la legislazione fascista è molto più rigida nella definizione di ebrio rispetto a quella tedesca perché quella tedesca nazista prevede la categoria dei mischling cioè dei sanguinisto cosa che non prevede assolutamente la legislazione italiana c'è una rigida classificazione basata sull'appartenenza biologica alla razza ebraica ma basata anche sulle manifestazioni comportamentali di ebraismo che è riassunto in partecipazione ai riti ebraici frequentazione della biblioteca l'inscrizione nei registri della della comunità eccetera quindi c'è sono calcoli complessi quelli che vengono fatti per calcolare la percentuale di sangue ebraico o di sangue ariano presenti all'interno di una persona e fanno davvero sono visibilmente inquietanti le gli schemi che ha gli schemi che si possono vedere alla chiude centrale di Roma che sono questi schemi con i colori rosso e blu e che aiutano il sono degli strumenti insomma di calcolo per la classificazione degli individui solo una parentesi perché è possibile che lo troviate spesso nei documenti si parla di discriminazione in senso diverso da come siamo abituati noi a usare questa parola viene introdotta proprio con la dichiarazione del sulla razza del Gran Consiglio del Fascismo il concetto di discriminazione e che cos'è è una sorta vuole essere una sorta di strumento per attutire un po' gli effetti di netta separazione di netta classificazione delle leggi razziste è rivolta a quegli ebrei che avevano comunque avuto dei meriti particolari che avevano comunque ricoperto dei ruoli particolari e così via spesso questa parola discriminazione questo istituto giuridico ha suscitato anche degli errori di interpretazione perché è sembrata una sfumatura insomma un alleggerimento ecco delle responsabilità del fascismo cioè il fascismo dava secondo questa interpretazione storiografica dava la possibilità di sfuggire alla persecuzione in realtà non è così le domande presentate di discriminazione cioè quindi di riconoscimento di non appartenenza alla razza ebraica furono 8600 riguardanti 16 persone perché si poteva fare cumulativo quindi riguardanti tutta la famiglia accolte 2600 ho messo solo una frase per indicare che inizia proprio con le leggi con questi provvedimenti che si sono succeduti così velocemente tra gennaio febbraio del 38 e poi le leggi razziste del novembre una una collocazione in un ghetto immaginario in un ghetto virtuale prima di tutto esistenziale come viene definito questa quest'inizio di questa profonda crisi personale individuale che tutti gli ebrei italiani vivono in questo momento i primi a non capire le leggi razziste i primi a non intuire questo percorso sono gli ebrei stessi proprio perché sono fanno parte si sentono parte della comunità italiana c'è una bellissima testimonianza raccolta in quel documentario che ho già citato memoria del cedec e che trovate sul sito che dice ma io avevo una ex deportata di Auschwitz romana dice ma io avevo una fiducia immensa in quest'Italia bellissima quest'Italia che è quella di Mussolini mi sembrava bellissima io credevo in questo progetto e a questo proposito è giusto dire che gli ebrei italiani non erano né più né meno fascisti degli altri italiani anzi forse erano leggermente più antifascisti ma avevano partecipato anche loro alle fasi della costruzione del fascismo molti di loro avevano partecipato alla marcia su Roma per esempio per cui i primi a essere completamente spiazzati dall'emanazione di queste leggi sono loro stessi che si sentono tagliati fuori dalla società si sentono tagliati fuori dai mestieri dagli elenchi telefonici dall'impossibilità di stampare i manifesti a luto per annunciare le morti dei parenti dall'impossibilità di tenere una radio e quindi di avere rapporti con l'esterno cominciano a sentirsi esclusi isolati come dice Liliana Segre io fino al giorno prima giocavo con le mie amiche le bambine che mi erano amiche da sempre il giorno dopo mi sono ritrovata a essere completamente da sola quindi l'ansia di essere ma anche l'ansia di giustificare la propria estrenità alla cultura alla razza ebraica ho solo messo un esempio ma è pieno l'archivio di stato di Asti di richieste di essere tolti da quel censimento del 1938 questo è un documento del 1941 è una richiesta di una donna che non può essere non ricorrono le circostanze di cui l'articolo 8 l'articolo 8 è la definizione di ebreo del regio decreto il 17 novembre ella infatti non è stata iscritta da alcuna comunità israelitica non ha mai fatto manifestazioni di ebraismo è figlia di padre ebreo ma di madre ariana presenta ora perché vi siano trasmessi i seguenti certificati ecco il mettersi in moto ad andare a cercare dei propri certificati di battesimo di matrimonio religioso di matrimonio civile di certificato di iscrizione alla parrocchia per poter attestare la propria non ebraicità la preoccupazione il cadere nelle maglie della burocrazia e la difficoltà di recupero di questi documenti la difficoltà di trovare documentazione perché magari si è nati in un'altra città perché magari i propri genitori si sono sposati in un'altra città e così via a questa presenza ebraica italiana c'è poi un caso particolare che riguarda Asti ma riguarda anche altre località italiane cioè l'arrivo degli ebrei srenieri dalle zone di occupazione dell'ex in particolare l'ex Jugoslavia soprattutto la Croazia nel caso di Asti specifico nel 1941 arrivano 500 ebrei croati che vengono internati in 25 località dell'Astigiano in 25 paesi e vi rimangono fino alla fine della guerra sfuggendo nella stragrande maggior parte dei casi agli arresti e alle deportazioni complessivamente questi quasi 500 ebrei fanno parte dei 9000 ebrei stranieri di cui 6300 sono internati nei campi di concentramento fascisti oppure in comuni con ospitati o in strutture alberghiere oppure in scuole dismesse in casa di riposo dismesse e così via sono sottoposti a quello che il regime fascista riesce a chiamare internamento libero e c'è una sorta di arresti domiciliari che sono sottoposti ovviamente alle leggi razziste del fascismo e poi a una serie di limitazioni di libertà tant'è che anche in questo caso i faldoni degli archivi sono pieni delle richieste di fare lavori particolari si chiede il permesso di avere dei libri sacri o rituali si chiede il permesso di poter festeggiare le festività ebraiche si chiede il permesso di potersi spostare da un paese all'altro per andare a fare un determinato lavoro anche solo oggi si direbbe part time e così via ogni movimento ogni spostamento ogni scelta obbligata di vita per il mantenimento di sé della propria famiglia va contrattato con la burocrazia locale e poi con la burocrazia periferica e poi centrale delle varie prefetture ho messo una una lamentela del questore di Asti dice è stato riferito che alcuni internati ebrei celibi giovani e ben forniti di mezzi come al solito lo stereotipo ebraico l'ebreo carico pieno di soldi alletterebbero le ragazze scusate ma non leggo in comuni dove insomma dove intrecerebbero relazioni di tipo amoroso c'è anche un documento riportato dal De Felice nella storia degli ebrei d'Italia in cui dice che a Cocconate in particolare in provincia di Asti è una segnalazione fatta da Roberto Farinacci forse il più feroce uno dei più feroci antissimiti del fascismo e dice nel paese di Cocconato in provincia di Asti gli ebrei sbevazzano gozzovigliano vivono una vita allegra e felice quando noi siamo coinvolti nel dramma della guerra eccetera eccetera maggio 1942 l'obbligo la precettazione per il lavoro coatto per gli ebrei italiani un'ulteriore schedatura arriviamo velocemente alla caduta del fascismo 25 luglio nel frattempo nel giugno del 43 almeno un centinaio di quei quasi 500 ebrei stranieri astigiani internati in Asti riescono a sfuggire agli arresti perché vengono trasferiti al campo di Ferramonti di Tarsia in provincia di Cosenza e lì ovviamente conoscono la libertà proprio agli inizi di settembre del 43 mentre invece a partire dal settembre del 43 comincia la terza fase quella della vera e propria persecuzione delle vite io ho messo un link a un video che abbiamo cercato di fare in fretta e furia come istituti della resistenza in Piemonte per raccontare la deportazione dal Piemonte e ognuno di noi ha messo le cose le caratteristiche insomma gli eventi che hanno caratterizzato la propria zona noi di Astia abbiamo messo questo avvenimento che riguarda il capo della provincia che è Renato Ceglio che è un personaggio molto importante del fascismo repubblicano è tanto il capo della provincia cioè il prefetto più giovane della Repubblica sociale e da giugno del 44 andrà poi a fare il capo della provincia di Como e quindi cercherà poi di trattare anche con gli alleati la consegna di Mussolini avrà Mussolini nella propria prefettura di Como negli ultimissimi giorni della sua vita sarà poi arrestato e processato Ceglio si insedia ad Asti all'inizio di ottobre del 43 e la prima cosa che fa in assoluto della sua operato è la convocazione del rappresentante della comunità ebraica astigiana per chiedere loro un milione di lire che per quei tempi è una cifra enorme altissima in cambio dice lui di protezione della comunità dai tedeschi e peccato che però il 4 novembre non si sia ancora insediato ad Asti il comando germanico che il presidio tedesco in città conta circa 250 uomini ma riguarda che hanno il compito di controllare tutto il territorio provinciale e che non hanno assolutamente ancora preso confidenza insomma con la città requisito edifici per sistemare i propri comandi i propri sedi amministrative e gli uffici militari quindi è una gestione tutta interna della prefettura lui continua in questa richiesta la piccola comunità ebraica astigiana riesce a raccogliere poco più di 200.000 lire che consegna alla prefettura e che vengono questi soldi vengono annotati nel bilancio prefettizio nel bilancio prefettizio come somma degli ebrai astigiani a favore delle vittime dei bombardamenti ovviamente questa questa richiesta di ricatto questo ricatto questi soldi non sappiamo non possiamo dire chi abbiano salvato e se siano serviti a qualcosa di sicuro per darvi l'idea di come avvengono gli arresti 30 novembre 43 questo è l'ordine di polizia degli arresti degli ebrei sul territorio della repubblica sociale italiana il famoso ordine di polizia numero 5 che parte al nel tardo pomeriggio per tutte le prefetture gli arresti ad asti ma anche in altre località cominciano al mattino presto del primo dicembre quindi immediatamente pochissime ore dopo dal ricevimento del telegramma vi dicevo l'intervento di cegno nell'arresti degli ebrei si vede perché gli ebrei arrestati il primo dicembre alcuni di loro alcuni nominativi vengono cancellati dai verbali d'arresto con una matita con un tratto di matita e a fianco viene annotata la frase rimesso in libertà per ordine del capo della provincia succede poi una cosa strana documentariamente archivisticamente strana c'è un'altra copia di questo di questi verbali d'arresto su cui l'annotazione cambia e non viene più scritto per ordine del capo della provincia ma rilasciato per motivi di salute generalmente e quindi non sappiamo se questi appunto questi rilasci siano dovuti al fatto dell'aver versato il denaro in cambio della salvezza della propria vita o meno la lettura dei documenti non chiarisce più di tanto insomma queste squalli da vicenda che si aggiunge alla requisizione degli ebrei del beni scusate ebraici astigiani che lui gestisce in prima persona quindi l'elemento tedesco l'elemento germanico è totalmente assente sia dagli arresti che dai sequestri dei beni mettendo in piedi uno spaccio sociale cioè un luogo di vendita dei beni requisiti dagli ebrei agli ebrei astigiani e la distribuzione a pagamento di vari oggetti beni sono stati trovati gli inventari dei beni sequestrati sono oggetti davvero di uso assolutamente quotidiano eppure questi oggetti cito una zuccheriera rotta come emerge da un inventario di una famiglia deportata da asti questi oggetti vengono messi in vendita e il ricavato entra nelle casse della prefettura o nelle casse personali di Ceglio Ceglio continuerà questi maneggi e questa diciamo spregiudicata gestione degli uffici della prefettura anche a Como verrà anche lì processato anche per una serie di requisizioni di altri oggetti eccetera insomma lui è come si attesta anche per Como un personaggio molto interessante che riesce a costruirsi relazioni e rapporti con l'autorità germanica proprio distribuendo favori in qualche caso anche gioielli oggetti di valore eccetera gli ebrei arrestati questo è il verbale d'arresto vengono detenuti nel quello che viene chiamato il campo di concentramento provinciale di Asti c'è un mancato progetto di costruzione di un campo di internamento per 1100 1200 persone in un paese che si chiama Baldicchiere che è sulla direttrice tra Asti e Torino in un'area che era di uso della contraerea tedesca c'era uno scambio di lettere tra il ministero degli interni della Repubblica Sociale Italiana e il prefetto Ceglio per costruire questo campo di internamento e questo all'inizio di novembre 1943 abbiamo discusso io e Liliana Picciotto se questo e anche Michele Salfatti se questo progetto poteva essere considerato una sorta di fossoli di campo di raccolta per gli ebrei del nord piemontesi liguri e una parte dei lombardi non sappiamo perché nelle lettere non viene specificato per chi è pensato il campo di internamento per così tante persone diventa difficile pensarlo per altre categorie perché gli internati militari erano già stati in quel momento a novembre 1943 nella stragrande maggior parte dei casi tutti presi e portati già nei campi di internamento in Germania era troppo presto per pensare a dei campi di internamento per antifascisti per partigiani perché il movimento partigiano non è ancora consolidato è un'ipotesi che fosse l'idea di costruire un campo per gli arresti in massa degli ebrei di questa zona d'Italia del nord ovest io ho messo solo un esempio è il primo che mi è capitato non perché tra i tanti noi abbiamo ricostruito qualunque passaggio ad asti di ebrei dal 38 quindi dal censimento fino al 45 ci sono 40 pagine un elenco di 40 pagine con le annotazioni e ce l'ha permesso la burocrazia fascista noi di loro sappiamo tutto sappiamo i cambi di indirizzo sappiamo le nascite sappiamo le morti sappiamo le relazioni parentali eccetera eccetera la burocrazia fascista consente di fare questo questa è la scheda di Giorgina De Benedetti nata a Santo Stefano Belbo De Benedetti è un cognome comunissimo è 1989 quindi ha nel 43 scusate 44 64 anni residente ad Asti presso il convento delle suole Stefanine che è ancora di cui c'è ancora l'edificio in via Giobert perché è molto malata beh e nonostante questo lei viene arrestata il 2 dicembre da italiani cioè da agenti di polizia viene rilasciata per ordine superiore fa parte di quell'elenco depennato da Ceglio diffidata dalla lontanasse della propria abitazione ma nuovamente arrestata nel maggio del 44 sappiamo che viene poi selezionata da Auschwitz e muore in data e luogo in noti questa è la lettera commovente che lei scrive da Fossoli e quindi è ecco questa slide è il risultato di ricerche certosine ma molto interessante perché la burocrazia ebra fascista consente di ricostruire le vite delle persone e i percorsi che hanno compiuto tra il 38 e il 43 la difficoltà delle cifre se voi mi chiedeste ma quanti sono gli ebrei deportati gli ebrei astigiani deportati io vi confesso vi dico ebbè non lo so 59 45 sono i numeri più attestati perché ma perché nel computo di una realtà anche così piccola come quella astigiana chi sono allora sono stati arrestati ad Asti ma chi ma dove erano nati erano nati ad Asti o come nel caso di che vi ho fatto vedere prima di Giorgina è nata a Santo Stefano Belbo che è un paese molto vicino ad Asti ma è in provincia di Cuneo ormai rientra nel computo degli ebrei astigiani oppure è meglio considerare gli ebrei arrestati ad Asti quindi 45 ma molti di loro sono sfollati solo 14 sono presenti nel registro della popolazione ebraica del 38 nel censimento del 38 gli altri sono tutti residenti provengono da fuori molti da Torino sfollati dopo i bombardamenti oppure arrivati qui da altre zone d'Italia perché Asti considerato un territorio abbastanza sicuro tranquillo al riparo dai bombardamenti c'è un via vai di persone alla ricerca di un rifugio precario o comunque di una sistemazione che li protegga che non consente di rispondere a queste a queste domande per cui noi rispondiamo dicendo ci sono delle presenze ebraiche alcuni di loro vengono arrestati alcuni di loro pochissimi ritornano ma dei 95 ebrei censiti nel 1938 ecco solo 14 tra virgolette quel solo e mi raccomando chiedo scusa vengono deportati ad Auschwitz il mestiere del testimone lo fa Enrica Iona l'unica di quei 14 sopravvissuta insieme a Teodoro Rozzai e Elisa Dresner che sono due coniugi croati che hanno trovato sono arrivati prima ancora dell'internamento dei stranieri sono fuggiti dalla Croazia sono riusciti arrivare nell'astigiano Lisa era molto amica di Enrica e i miracoli del web hanno fatto sì che noi incontrassimo i familiari di Lisa Dresner in Israele che cominciasse una corrispondenza fittissima con loro abbiamo ricostruito anche tutto il dopo e le vite che hanno ricominciato da capo e lei è il mestiere del testimone perché fin dal 1947 perché lei è una testimone al processo Auschwitz di Varsavia e questa è la cartolina che attesta il suo arrivo a Varsavia in una Varsavia totalmente distrutta comincia il suo mestiere di testimone comincia fin da subito fin da subito lei poi scrive la sua esperienza parla e racconta e diventa poi veramente il testimone della Shoah astigiana io ho messo vi chiedo scusami non voglio mai citarmi semplicemente ho curato io le sue le sue testimonianze che nel corso degli anni abbiamo registrato e che abbiamo raccolto l'ultimo particolare è che questa mole di lavoro che noi abbiamo fatto sul basso Piemonte sull'astigiano è poi confluito in questi due libri due opere uno è il libro della memoria che è l'elenco nominativo degli ebrei italiani l'altro è un'opera enciclopetica sul libro dei deportati cioè sui deportati politici circa 9.000 gli ebrei italiani deportati ad Auschwitz di cui 830 i sopravvissuti circa 25.000 i deportati politici una definizione che non mi piace usare per darvi solo l'idea sono partigiani antifascisti rastrellati che di cui noi abbiamo ricostruito la deportazione una deportazione completamente diversa perché la deportazione politica è una deportazione singola o di gruppi di persone ma è il castigo è la punizione al pari della della fucilazione dei rastrellamenti del carcere per chi si oppone al fascismo e all'occupante tedesco e quindi sono gestiti in maniera corresponsabilmente sia da tedeschi che da fascisti repubblicani mentre gli ebrei vengono arrestati e deportati spesso per nuclei familiari spesso ci sono dei bambini all'interno di questi nuclei familiari e vengono nella sta grande maggior parte dei casi arrestati da italiani quindi da agenti di pubblica sicurezza nel tempo nel periodo nel momento in cui il movimento partigiano il movimento antifascista non è ancora strutturato non è ancora pienamente operativo eccetera quindi partono molto presto dicembre 43 gennaio 44 mentre la stragrande maggior parte dei casi dei deportati partigiani antifascisti parte verso i campi di concentramento e non di sterminio e questa è un'altra differenza sostanziale soprattutto tra dicembre 44 e gennaio 1945 questo è sostanzialmente quello che volevo dirvi interrompo la condivisione e lascio la parola a è un'altra